Importante bozza di accordo approvata in giunta a Lesa, si tratta, come comunicato dal sindaco Luca Bona, di quella con Erno Spa per la realizzazione del nuovo ufficio turistico sul Lungolago, la più importante azienda del territorio, simbolo della moda italiana nel mondo, che porta il nome di Lesa ovunque, realizzerà a proprie spese nel luogo dove storicamente avvenivano gli scambi commerciali via acqua, un edificio che sarà luogo di promozione. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.